Bella ragazzi! Benvenuti a questa nuova Midnight Edition, sempre con me e sempre su Pineview. Ed eccoci al giorno 7. Abbiamo passato una settimana in questa villa del terrore barra ex manicomio abbandonato. Vedremo cosa ci aspetta. I caricamenti sono sempre eterni. Ma ecco il Day 7. Allora, avevamo visto su tutto quello che c'era da vedere ed eravamo rimasti. Se non vado errando, qui... No, quella di sotto, perdonatemi. Errore mio. Ma intanto direi che accendiamo. Allora... Pazzesco. Veramente pazzesco. Allora, eravamo rimasti qui. Proviamo a lasciare acceso la TV, magari... Magari succede qualcosa. No, aspetta. Comunque... Mi sembrava... Ma c'è un telefono qui? Eh sì che era il telefono, ragazzi. Ma qui... Aspettate che accenna anche qua tanto. Fiammi farineo. Qui non ci sono telefoni. Il telefono, se non erro, era... Qui. Ma non è questo. Vieni da su. Sì, mi ricordo dov'è l'altro telefono. Era quello famoso che non sembrava interattivo. Sì, certo. Questo. No, neanche questo è interattivo. Forse su? No, il suono si fa molto lontano. Cos'è che suona? È pieno terra. Ragazzi, non riesco a capire. Ah, ah, ah. Ah, qui niente. Qui niente. Niente, niente qui. Qui, abbiamo già guardato, non c'è. No, in realtà non l'abbiamo guardato qui, però... Non c'è niente qui. No, rimangono molti posti, vero? Per forza è qui. Ah, qui ce n'è un'altra. Ma non è neanche questo. Eppure il suono è molto forte. Non capisco. No. Non. C'è chi è usato? Dio santo, ovviamente era l'ultimo. Ovviamente, tutti quelli della casa, l'ultimo. Chiave. Vediamo cosa apre. Questa porta è sempre chiusa? Forse è... No. Allora restano quelle qui. Nell'ala nuova. Bene. Siamo senza torcia, signori. Trovata. Oh, ecco, ecco, ecco. La chiave iniziale è finalmente servita a qualcosa, ragazzi. Sì. Ad aprire la dispensa. E nella dispensa ci sono torce, scusate pile, musica sinistra e il foglio di fine livello, ma anche dei fiammiferi. Bene. Chiavi? No? No, aspettate che controllo bene perché... Non mi fido. Abbiamo finito la scorta di chiavi, ragazzi. Bene. Direi che è ora che leggiamo. Mi raccomando, l'episodio è finito, seguiteci, seguite il canale e... Ci vediamo alla prossima puntata. Bye bye!